Benvenuto a Giovanni Volpe, ciao, accomodati pure qua in mezzo. Ciao Giovanni, Humans of Cremona, che cos'è intanto spieghiamo? Allora parliamo di Humans of Cremona infatti che è di fatto la base è un sito, un sito un blog di Facebook, innanzitutto Humans nasce sulla scia di un progetto ben più grande portato avanti dal fotografo americano Brandon Stanton che è Humans of New York che ad oggi conta circa 11 milioni di fan, chiaramente questa portata ha avuto una ripercussione forte anche in tutta Europa, noi siamo arrivati anche un po' in ritardo. Quanti sono Humans in giro per l'Europa o per il mondo? In giro di pagine degne di nota abbiamo per esempio a Roma, Humans of Rome, Humans of Paris insomma anche in giro per l'Italia, Milano, Napoli, tutte pagine che si ispirano a questo filone qui noi siamo arrivati quindi il 4 febbraio di quest'anno, è stata fondata da me, Nicolo Govoni e Ambra Zhang che ad agosto hanno lasciato l'amministrazione per andare a intraprendere studi all'estero per cui ora io mi avvalgo della collaborazione di Chiara Francesca Rizzuti che è una studentessa di fotografia quindi la pagina si ispira a questo progetto ed è interessante vedere come nella realtà cremonese prenda una piega completamente diversa perché chiaramente essendo una realtà più piccola, più concentrata capita di incontrare gli intervistati camminando per le vie del centro che è principalmente il luogo dove ci spostiamo. Ecco ma facciamo un attimo un passo indietro, spieghiamo l'idea originale appunto di Stanton a New York qual è stata? Quella di raccontare la città attraverso i visi, le foto dei passanti normali cioè uno per strada ferma un passante, fa una foto e fa una domanda Sì, inizialmente lui aveva l'intenzione di creare un catalogo degli abitanti di New York poi si è accorto che era interessante anche aggiungere una didascalia che potesse rappresentare la persona perciò ha cominciato a porre delle domande che sono un po' le domande che poniamo anche noi ai nostri intervistati che sono domande di ordine generale, personali, che servono più che altro come trampolino per poi intavolare un discorso. Ecco il termine intervista è un po' da prendere con le pinze più che altro è un dialogo in cui poi l'intervistato si apre, ci racconta la sua storia e poi noi la trasmettiamo tramite il formato foto e intervista seguendo l'esempio di Brandon E in genere sono disponibili questi cremonesi che vengono fermati in centro? Le reazioni, le reazioni Allora sì, ne abbiamo viste molte chiaramente dalla fondazione Di norma sì, sì sì, la gente si presta anche perché è una cosa abbastanza informale Allora vediamo qualche faccia, faccia da cremonese, è tradotto Humans of Cremona Faccia da cremonese, vediamo se riusciamo a vederla Eccola qua Capita anche che qualcuno poi in un secondo tempo magari ci ripensi Sì, è capitato che Ho detto una sciocchezza Sì, che qualcuno volesse la rimozione del posto oppure il cambiamento però fortunatamente non capita troppo, sono insomma rare le volte in cui succede Quindi fermate e fate la foto e appunto fate qualche domanda Non stanno pubblicando però uno al giorno, quindi è molto viva anche come pagina Sì, noi ci siamo posti l'obiettivo di pubblicare una storia al giorno perché per dare appunto una continuità volevamo appunto arrivare al 4 febbraio prossimo avendo 365 storie perché il progetto si voleva sintetizzare in un'esposizione fotografica che stiamo mettendo in cantiere appunto per il compleanno di Humans appoggiandoci anche a un'importante organizzazione umanitaria e stiamo appunto organizzando ancora adesso abbiamo bisogno di definire qualche cosa insomma stiamo cercando del supporto anche dal punto di vista economico Ma solo cremonesi o anche chi si trova a passare per Cremona? Noi diciamo a quelli che non sono di Cremona che è importante trovarsi fisicamente a Cremona C'è capitato di intervistare anche chiaramente persone fuori e poi per esempio quest'estate abbiamo intrapreso possiamo dire un piccolo tour siamo andati nel sud Italia abbiamo raccolto interviste a Capri, a Roma, a Napoli insomma abbiamo fatto un piccolo giro per dare la possibilità anche a quelli che non sono a Cremona Allora abbiamo detto che qualche originale l'avete incontrato qualcuno che ha deciso di chiedere di essere eliminato dalla vostra pagina Facebook ma ecco ma se dovessimo citarne uno particolarmente originale o interessante? Un'intervista particolarmente originale? Allora sono molte, sono molte molte mi hanno colpito c'è stato un signore appunto non cremonese che abbiamo incontrato casualmente un turista che inizialmente era un po' restio, non voleva farsi intervistare poi si è dimostrato apertissimo e insomma questo signore aveva una storia molto particolare ci ha detto che gli mancavano pochi mesi di vita e che aveva insomma una malattia particolarmente dannosa e mi ha colpito appunto il modo in cui lui affrontava sorridendo questa sua malattia e per questo dico che la parte migliore oltre al racconto delle storie sulla pagina è proprio il lavoro sul campo il fatto di percepire quello che gli intervistati, i soggetti che fermiamo ci lasciano entriamo a contatto ogni giorno con storie diverse storie di sconfitte, di vittorie di amori che nascono, amori che finiscono quindi raccontano però si prestano proprio a lasciarvi entrare nel loro intimo sì, è bello come si vede che inizialmente chiaramente tutti sono un po' freddi magari rispondono in modo superficiale e appunto il progetto serve per far capire che scavando in ognuno di noi c'è sempre qualcosa c'è sempre qualcosa che ci resta e anche dal ragazzo che sta passeggiando con il cane dalla signora che aspetta l'autobus dai ragazzi che sono i giardini pubblici insomma un bel momento di riflessione insomma gente di Cremona su Facebook in questa pagina che attraverso le foto attraverso questi brevi racconti ci consente di approfondire uno spaccato di Cremona attraverso questa bella idea portata avanti da giovani possiamo dirlo però se vi ferma Giovanni Volpe vi ferma vi dovesse fermare per strada non è uno scherzo non spaventatevi veramente è un progetto un progetto davvero interessante faccio un esempio per concludere di alcune delle domande che poni allora la domanda che di solito mi piace chiedere è qual è la lotta più grande che stai affrontando adesso oppure qual è stato il momento più felice o il più triste della tua vita ah proprio belle toste ci sono domande che inizialmente uno non pensa di ricevere oppure non lo so chiediamo un consiglio se si potesse dare un consiglio a una platea di persone in base al proprio vissuto che consiglio sarebbe insomma sono tutte domande che poi appunto come ho detto prima fungono da trampolino certo va bene grazie Giovanni Volpe complimenti in bocca al lupo per Humans of Cremona a questo punto una breve pausa e poi gli ultimi ospiti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti